Avete mai sentito parlare di olioliti? Se pensiamo per un attimo alla parola, notiamo subito l'assonanza con il termine olio. Gli olioliti, infatti, sono dei veri e propri macerati di pianti aromatiche e curative in olio. Sono ricchi di proprietà, ci permettono di godere dei principi attivi della pianta e sono oltretutto facilissimi da preparare. L'unico inconveniente è il tempo, serve un pochino di pazienza, ma se riuscite a trattenere la vostra curiosità e ad attendere alla fine della preparazione, sono sicurissima che rimarrete più che soddisfatti, ve lo assicuro. Nel video di oggi vedremo come si prepara un oliolito, a che cosa serve e soprattutto come utilizzarlo all'interno della nostra routine di bellezza. Cominciamo col dire che gli olioliti hanno davvero tantissimi utilizzi. Sono perfetti come olio da massaggio, in alternativa possono essere utilizzati negli impacchi pre-shampoo, ad esempio se vogliamo beneficiare delle proprietà di un'erba oltre a nutrire i nostri capelli. Possono poi essere utilizzati all'interno delle creme o come base di preparazione per la realizzazione di molti unguenti. Insomma, sono davvero versatili. Manifestano una particolare affinità con la pelle, mantenendo la sua elasticità e soprattutto apportano tutti i benefici attivi di cui la pianta è ricca. Possono avere un uso sia cosmetico che curativo. E adesso arriviamo alla parte più interessante, ovvero come si preparano. Dobbiamo scegliere con attenzione sia l'olio vettore che la pianta. È molto importante utilizzare oli resistenti all'irancidimento, quindi ad esempio olio d'oliva, olio di vinaccioli o olio di crusca di riso. In merito alle piante, invece, generalmente vengono scelte foglie, radici o fiori secchi, questo per scongiurare la problematica dell'acqua che potrebbe portare problemi di conservazione all'olio stesso. Però ci sono dei casi in cui tuttavia bisogna utilizzare necessariamente la pianta fresca, come ad esempio l'arnica, la melissa e l'iperico. In questo caso sarà necessario far asciugare la pianta qualche ora prima di poterla pestare e ridurre in polvere. A questo punto possiamo immergerla nell'olio scelto. L'azione combinata del tempo e dell'olio permetterà l'estrazione dei principi attivi. Adesso che sappiamo tutto, siamo pronti per analizzare i tre principali metodi di preparazione di un oliolito homemade. Partiamo dal primo metodo, ovvero la digestione a freddo. Si prendono le erbe sminuzzate, si inseriscono in un barattolo di vetro, precedentemente disinfettato e sterilizzato, si ricoprono con olio e si lasciano in un luogo fresco, asciutto e buio per almeno 40 giorni, chiuse con un coperchio, avendo l'accortezza di scuotere il barattolo almeno tre volte a settimana. Fatto questo, si va a filtrare il composto con un filtro di cotone, si trasferisce l'olioolito all'interno di un barattolo con un vetro scuro e da questo momento in poi possiamo utilizzarlo. Questo è sicuramente il metodo più lungo, ma secondo me è anche più semplice, perché fa praticamente tutto da solo. Il secondo metodo è quello della digestione a calore solare, si usa principalmente se vogliamo realizzare un oliolito partendo da una pianta fresca. In questo caso inseriamo la pianta in un barattolo di vetro, la ricopriamo completamente di olio e la lasciamo esposta al sole con un filtro a trama stretta, per far sì che la pianta possa traspirare, ma al tempo stesso per evitare la contaminazione da fattori esterni. In questo modo serviranno circa 15 giorni di riposo, fatto questo si può passare al filtraggio. L'olio di macerazione va riparato dalla luce, quindi in questo caso il barattolo di vetro andrebbe coperto con della carta stagnola. Quando si passa al filtraggio invece, sarebbe opportuno lasciare riposare ulteriormente l'olio di litro per altri 4 giorni, per osservare soprattutto se c'è dell'acqua. In questo caso, qualora ci fosse, andrebbe assorbita con una siringa. Il terzo metodo invece è la digestione a bagnomaria. Consiste nel far macerare la pianta in olio a bagnomaria per circa 3 ore, cercando di mantenere una temperatura costante. Questo metodo è consigliato soprattutto per estrarre i principi attivi dalle parti più dure della pianta, come ad esempio le radici. La finalità di questo metodo è quella di portare velocemente l'olio ad una temperatura che permetta il rilascio dei principi attivi, ma che al tempo stesso non li comprometta. Ovviamente in questo caso è molto importante utilizzare un olio non termolabile che quindi sia resistente al calore, come ad esempio l'olio d'oliva. Il filtraggio in questo caso avviene in due modi. Inizialmente viene fatto con un filtro di cotone, si premono quindi bene tutte le parti della pianta per far uscire tutto l'olio olito e dopodiché si lascia riposare il composto per altri due giorni. Quindi qualora fossero caduti dei residui non vi preoccupate, perché poi fatto questa operazione, in seguito ad un ulteriore riposo, verrà fatto anche un successivo filtraggio. L'olio olito ottenuto ovviamente va sempre trovato in luogo fresco, asciutto e buio. È all'interno di un contenitore che preferibilmente abbia un vetro scuro. Abbiamo visto che esistono tre diversi metodi per preparare un olio olito homemade. Io di solito preferisco la digestione a freddo, perché anche se è più lunga, si fa praticamente da sola e quindi è perfetta per me. Solitamente lo preparo con piante secche e ho l'abitudine di arricchirlo con qualche goccia di olio essenziale di preferenza, ovviamente che sia in linea con i principi dell'olio olito che sto preparando. In merito al conservante in realtà non è necessario soprattutto se avete fatto attenzione durante la preparazione, però se non siete sicuri sappiate che potete utilizzare il tocoferolo, basterà qualche goccia per farvi dormire tranquilli. A proposito di oli oliti, adesso c'è qui per voi una ricetta molto interessante e soprattutto tanto particolare. Sono sicura che rimarrete tutti stupiti, non ho dubbi. Per la realizzazione di questo olio olito ho chiesto aiuto alla nostra cara amica Federica, meglio conosciuta con il nome di Stregape. La trovate su Instagram, vi basta fare un salto sul suo profilo per capire che non c'è il nome più azzeccato. Operosa come non mai, fa tantissime ricette, ce n'è per tutti i gusti. Vediamo subito insieme che cosa ci prepara. Ciao a tutti! Ciao! Ciao Simona! Sono Federica Stregape e oggi sono qui con voi perché voglio lasciarvi una ricettina che ho fatto con un oleolito, quindi una macerazione, però in questo caso non solo di erbe o fiori. Ho inserito la resina di lacrime d'incenso di Boswellia per corpo e capelli. Restate con me! Ciao! L'incenso è una gommoresina oleosa che si forma nei canali del tronco di varie specie di Boswellia, piante balsamiche della famiglia delle burseracee. Dall'arabo luban, che significa bianco, veniva chiamato libano, i francesi lo chiamavano enchant, mentre la parola per gli inglesi frankincense era l'unione del termine francese alla parola frank, che sta per sopraffino. L'incenso nell'antica medicina veniva utilizzato per fumigazioni, masticazioni, unzioni, polvere e vino, impacchi unguenti e impiastri. L'olio corpo capelli che andrò a creare ha diverse proprietà e grazie all'inserimento della camomilla le più note saranno antinfiammatori, antisettiche, astringenti, carminative cicatrizzanti, rilassanti, tonificanti e lucidanti. L'incenso di Boswellia si conserva in un luogo fresco e al riparo dalla luce. È preferibile una boccetta di vetro oscurato con pipetta contagocce per non sprecare il prodotto. Se non avete a disposizione una boccetta del genere potete tranquillamente riciclare magari la vecchia bottiglietta dello sciroppo appena terminato. Si conserva dai 6 agli 8 mesi il prodotto e si applica sia su corpo viso e anche i capelli. L'olio ha una consistenza molto liscia e facilmente assorbibile. Il suo profumo vi donerà una sensazione di benessere ad ogni utilizzo. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi saluto, un caro abbraccio e alla prossima Federica, o meglio stregape. Grazie Federica per questa fantastica ricetta. Interessante vero? Non avevo dubbi, Fede è sempre una garanzia. Fate un salto sul suo profilo Instagram ma anche sul suo blog. Sono sicura che vi perderete tra le tantissime ricette. Non sono sicura, di più. Rieccoci qua. Quando si parla di olioliti potremmo elencarne davvero tanti se pensiamo alle loro proprietà. E' importantissimo ad esempio l'oliolito di calendula, fondamentale per il suo potente infiammatorio, ma anche quello di carota, utilissimo per la pelle secca o screpolata, per non parlare di quello di rosmarino che è fondamentale contro la caduta ai capelli. Insomma ce ne sono davvero tantissimi, basta solo sperimentare. Una cosa che forse non sapete però è che partendo da un oliolito si può realizzare anche un unguento. Incredibile vero? Proprio per questo ho intenzione di lasciarvi la ricetta di un unguento alla calendula, fondamentale per il suo potere antinfiammatorio e cicatrizzante e quindi utilissimo in caso di pelle secca e screpolata. Tutto ciò che ci serve sono 30 grammi di oliolito di calendula, 10 grammi di cera d'api, 5 gocce di vitamina E e 3 gocce di olio essenziale di lavanda. Procediamo inizialmente facendo fondere a bagnomaria sia la cera d'api sia l'oliolito, cercando di mantenere la temperatura molto bassa. Fatto questo potremo vedere che il composto sarà fluido e omogeneo. Lo facciamo intiepidire un attimo, mescoliamo e successivamente aggiungiamo sia la vitamina E che l'olio essenziale. A questo punto possiamo travasare il tutto all'interno di un contenitore precedentemente disinfettato e sterilizzato. Quando questo qui sarà freddo possiamo chiuderlo e utilizzare la nostra crema ogni volta che ne sentiamo il bisogno. Facile vero? Oggi abbiamo visto insieme tante cose importantissime sugli olioliti, ma voi li conoscevate? E soprattutto, li avete mai utilizzati? Provateci no? Anche oggi siamo giunti alla fine del nostro video, ringrazio ancora una volta Federica per la sua disponibilità e per il suo supporto e mi raccomando seguitela! Se questo video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale, attivate la famosa campanellina per rimanere sempre aggiornati e condividete! Io vi aspetto, ci vediamo alla prossima!